Alcuni hanno ritenuto che i metodi sopraricordati avessero il torto di spoetizzare l'opera d'arte, che fosse preferibile non rendere di dominio pubblico le malattie, i rifacimenti, gli eventi legati alla creazione artistica. L'intrusione della tecnica nel regno dell'arte è ancora per alcuni motivo di scandalo, tuttavia non si tratta di sezionare l'opera d'arte né di confrontare il talento e la genialità dell'uno e dell'altro artista. L'astronomia non sarebbe possibile senza l'ausilio del telescopio, eppure il cielo non è meno bello. Nei problemi che pone ogni notte meno vasti e complessi, nel regno dell'arte vale lo stesso principio. Perché fare a meno dell'aiuto del microscopio? O di queste radiazioni misteriose, che permettono di scoprire meraviglie inattesa, pitture ignote, di chiarire un momento storico rimasto nascosto, di mettere in luce un antico restauro, che deturpa un'immagine affascinante? Perché non trarre serenamente beneficio da tutto ciò che la buona volontà dei ricercatori e degli scienziati mette a nostra disposizione, per poi avviarci nei musei. E ammirare i quadri con amore e con occhi nuovi, trovandoli ogni giorno più belli sotto l'illuminazione al soli, e persino più misteriosi, allorché ad esempio si scopre il volto reclinato, tanti secoli dopo che Rembrandt lo ha dipinto sotto quello di Beth Zabea, prima di realizzare l'immagine oggi visibile. E' curioso a riscoprire l'irrequietta madame carpentier, mentre balgia la testa, ora a destra, ora a sinistra, quando Renoir le faceva il ritratto. Prima di vederla, ormai immortalata nella sua trionfante maturità, è interessante osservare di quale imprevvisa generosità la tecnica possa dare prova nel regno che andiamo esplorando. Se la televisione, utilizzata come mezzo di diffusione, è divenuta al tempo stesso un mezzo di ricerca che facilita l'osservazione dell'immagine e la sovrapposizione dei documenti evocando i diversi momenti della creazione, questo è un risultato niente affatto trascurabile. Ugualmente non è privo di interesse il fatto che gli scienziati che hanno messo volentieri a disposizione dei musei le loro conoscenze abbiano potuto beneficiare grazie ai campioni loro sottoposti di osservazioni che non sarebbero mai state in grado di riscontrare sull'invecchiamese di certi materiali, sulla stabilità di certi coloranti, cinque o sei secoli dopo il loro impiego. Sembra dunque evidente che l'arte talvolta contraccambi alla tecnica l'aiuto che ne ha ricevuto. Nelle pagine che seguono cercheremo di ricostruire alcune etappe di questo peripo compiuto attraverso la pari di ogni epoca e scuola. Non vi è sacrilegio nel penetrare con una lampada in mano in un santuario che è rimasto nell'ombra. Il sacrilegio non è mai nella luce, è semmai solo nella mano di colui che la sorregge. E qui c'è un rimando a quel famoso detto. Com'era il male non è nelle cose, ma nella mente di chi le guarda. Mi sembra che fosse così più o meno. Nella pagina seguita, Leonardo da Vinci, la Vergine, il Bambino, Sant'Anna, d'Italia, Museo dell'Uro. Grazie. 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 Grazie.